I numeri sono quelli che ho detto e che a memoria non ricordo, se scriverli serve proprio a quello. Comunque sì, otteniamo che abbiamo ottenuto finanziamenti importanti, devo dire la ricerca soprattutto delle facoltà di scienza agraria è molto importante e sostiene e giustifica da solo le attività della sede, siamo nel complesso direi a oltre 10 milioni di euro e di ricerca di finanziamenti, più 7 del piano nazionale di ripresa e resilienza, sono numeri significativi, i quali si aggiungono quelli della cosiddetta terza missione, cioè un'attività che è di ricerca ma anche di consulenza, analisi, elaborazioni che fanno anche le altre due facoltà in interlocuzione col territorio che quanto più si rafforza, tanto più riesce da un lato a dare sostegno e alimento alle facoltà, dall'altro a dare una capacità di penetrazione culturale dell'Ateneo e quindi di restituzione dell'utilità che l'Ateneo può offrire al territorio.